Basta la vista ragazzi, sono sempre io, TheGamer800, stiamo iniziando malissimo Siamo ripartiti da qua ragazzi Che dobbiamo fare la lite con sto bastardo Ah, posso contraattaccare con triangolo Da Ah mamma mia dai Dai che tre stai prendendo le mazzate Non lo posso neanche prendere raga Ah ok, posso contraattaccare quando mi attacca Ah bellissimo raga E dai, non tutti insieme però eh Ah, mi rimangono solo 28 secondi raga Spero di farcela Ah, ha bloccato il piede e ha dato un calcio in testa Non lo so Ok dai Mamma mia raga Quasi fatto Ok, perfetto raga Cazzo abbiamo sistemato Ciao ragazzi Che succede? Avevo fatto un po' di combattimento dei galli qua Che poi si sta veramente in questo gioco Poi lo vedremo Combattimento dei galli Vediamo Ma cazzo ci sta succedendo qui fuori Ce ne stavamo andando E questo si è veramente interessante Amico mio, piacere vederti Ehm So good to see you How's your family, huh? What do you want, dog eyes? Oh ho ho, Winston, wait, wait Brother, I just came to talk to you, man For all time's sake Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both sung on yi Both grown men We shouldn't be fighting like children Hey, who's the new blood? It's Wei You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls from Big Smiley? Oh ho, Mimi Oh yeah First girl ever sucked my cock So what? Wei's your brother And I was the first guy who ever stabbed you You remember me now? Whoa, 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 whoa Wait, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize I'm really sorry Your sister blew me The night market is mine, dog eyes Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo La merda di persona Penso solo al sesso, boh Hey Tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful Che bastardo Eppure è morta Che cazzo parla Yeah, yeah He used to be my friend Jackie You took gold to the night market You make sure people understand That I'm in control Not dog eyes Got it? Got it boss Mol'è And you fuck up anybody who tries to get in your way I want to send a fucking message Bravissimo Così si parla Ok, raga Che dovremmo fare adesso? Qualche novità? Qualcosa? Ah Deve essere forte Allora, vediamo Vai dal primo venditore Dov'è? Di qua? Bello Che bella questa festa Che bello Le penso che si divertono Che bello, raga Ehi, chi è che spari petazzi Fede di puttana Cosa sarebbe questa? Ah, questa Ah, che strano Posso comprare qualcosa Danno aumentato Ah, ecco Posso acquistare delle bevande Delle cose, raga Ah, sta dietro di me Il mio amico Pensavo che stessi avanti Vabbè Ok Anche qui ragazzi Gli effetti E' roba varia Veramente belli Riscuti dal venditore L'elettronica Estorsione Estorci Facciamo così E storciamo Come posso aiutarti? Ok Ah, mi ha pagato Ho menati i soldi? Perfetto Bravo ragazzo Bravo Vado da quello degli orologi Scappiamo un pochettino Ok Devo andare di qui E storci Per afferrare i nemici No, nella cabina telefonica Raga Ah, che bello Ragazzi No, veramente Estorci Ok ragazzi L'azione violente Contro i nemici Incrementano il punteggio Va bene Che mi dà Questa Calcio del drago Va bene Ok Riscuti dal fruttivendolo Pure dal fruttivendolo Ma do Che cazzo deve guadagnare Sto poverello Ok Vabbè Nel bok choy Nel culo Che cazzo è Offa Mi sto bloccando un po' Mamma mia Mamma mia Uno scatolone Uno scatolone Uno scatolone Uno scatolone Raga Mamma mia Per cosa lo posso usare Questo Un altro scatolone Qua raga Un altro scatolone Lo buttiamo Nel altro scatolone Dai 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 Veloce Sì Ok Riscuti dal fruttivendolo Ok Ora si sarà spaventato Credo Dopo questo casino Ok Ovviamente Superiore Dove Porta di costa Denaro Da parte mia Perfetto E ci voleva Tanto Da macellaio Pure Mamma mia Raga Che cazzo Succede qua Chi sono questi Mamma mia Raga Che cazzo Posso usare qua Qua Questo Ok E merda E vieni qua Ti faccio il culo Vieni Vieni Ti prendo Vieni Che sta una saracinesca Qua Bella 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 Ti faccio a metà Con la saracinesca Pam Basta Basta Voi due a combattere Basta Ti prendo io Ah ok Ora ti è storco A te Ti è storco Questi mi devi dare Ok Vai la bancarella Dell'abbigliamento Ah Devo comprare Dei vestiti Ragazzi Mi sembra Di rigiocare San Andreas Però in versione giapponese Quando all'inizio Devi un po' Prima fare un po' Di casino Poi andare a vestire Da grow Per far sapere Che sono dei grow Anche se i bellas Già lo sapevano I bollas Bellas E spot Che vestiti Torso L'anottiera Questa Questa Mi piace di più Questa Pantaloni Io quali ho Ah Ho questi Ho questo Ghetto al massimo Ok Bello Queste Scarpe Io ho queste Ah Buonissimo Cappelli A baseball Catene Braccialetti Non posso come Vabbè Penso che basti Raga Perfetto Abbiamo cambiato Un po' Personalizzato Un po' Il nostro personaggio Ok Devo andare Di qua Adesso Devo tornare Lei in pratica Dove stavo Prima Ok Vabbè vai dai ci sentiamo dopo dai vai vai ok quindi che devo fare adesso punteggio poliziotto e triade e se faccio sia parte della triade e come poliziotto anche ragazzi ripeti missioni sbloccato un tag missione 348 record ha posso anche il compenso tenute hk che si fa sarà il denaro che si usa qua 800 torna al gioco ok quindi mi posso muovere liberamente va bene ragazzi direi che per questo video è tutto non so quanto sia durato mi raccomando lasciate un like condividete iscrivetevi se non siete iscritti alla prossima